Buongiorno, io sono l'ingegnere Borghi Alberto di Reggio Emilia. Vediamo adesso i problemi tipici di modellazione per le coperture in legno. Abbiamo già affrontato il discorso e l'importanza del calcolo delle forze statiche equivalenti per il dimensionamento delle connessioni. Abbiamo anche visto il disassamento degli elementi linei, ad esempio i travetti posti sopra alle banchine o sopra le mensole, oppure il disassamento dei colmi, che quindi viene affrontato egregiamente dall'utilizzo di link. Un altro problema, alle volte purtroppo viene trascurato dai colleghi, è la corretta assegnazione degli svincoli all'estremità delle travi e dei pilastri in legno. Ricordo che sostanzialmente gli elementi linei debbono essere incernierati all'estremità, difficilmente si possono avere degli incastri agli estremi. Fatto salvo appunto modellare e studiare un nodo che alle volte non è nemmeno consentito per un discorso di connessioni, perché le connessioni nel legno debbono rispettare determinate distanze, quindi non è facile avere abbastanza, come dire, legno per poter realizzare la connessione che si intenderebbe realizzare, in particolare quelle ad incastro. Ancora, il trasferimento reciproco delle sollecitazioni tra elemento lineo e elemento lineo e dalla sottostruttura, quindi l'importanza della rigidezza sia dei link che dei vincoli elastici su cui di appoggio della struttura, diciamo, sulla sottostante sottostruttura muraria. Un altro problema, o comunque un accorgimento che va tenuto appunto in conto, è quello della valutazione della torsione negli elementi linei, che spesso viene trascurata. Infine, l'importanza della rigidezza del piano di copertura. Molto spesso si tende a mettere un doppio tavolato e quindi vedo colleghi che modellano la struttura con, non so, 40 mm di legno, magari C24 o C16, non rendendosi conto che loro hanno messo su una lastra monolitica, quindi irrigidendo in maniera eccessiva rispetto alla realtà le falde di copertura, ma lo andremo ad affrontare meglio in seguito. Per quanto riguarda la definizione degli svincoli, chiaramente nella maschera dell'editor o della definizione degli elementi linei, oltre a poter definire materiale, classe del legno, sezione, si può anche andare a definire le impostazioni per le sconnessioni, appunto, che possono essere di svariati tipi. In particolare, naturalmente, ci sono gli incastri perfetti, le cerniere perfette, oppure le cerniere parziali, rotazionali, diciamo quindi con rigidezza elastica, oppure con comportamento elastico perfettamente plastico, o ancora con la possibilità di personalizzare il comportamento della cerniera. Come abbiamo detto, sostanzialmente, gli elementi linei agli estremi debbono essere svincolati attorno ai due assi Y e Z. L'asse X è l'asse proprio della trave, dell'elemento lineo, quindi se io svincolassi ad ambe due le estremità, avrei una labilità perché potrebbe ruotare attorno al proprio asse. In questo caso, probabilmente, ho cliccato, ho selezionato un elemento tipo una mensola, quindi ad un'estremità, non era svincolato. Ora vediamo appunto cosa succede nel caso in cui io, utente, commette degli errori nello svincolare, negli svincoli, piuttosto che nella rigidezza degli appoggi o dei link. Questo è il risultato, in termini di momento e di sforzo assiale sugli elementi linei, nel caso appunto che gli svincoli siano assegnati correttamente, quindi abbiamo 12.200 Km di momento massimo in campata, nel colmo principale, e abbiamo 1.300 Km in compressione, circa 1.270 per quanto riguarda gli elementi linei. Nel momento in cui io non svincolo, diciamo, le estremità delle aste, degli elementi, ho una configurazione differente, in particolare ho già una differenza del 15% sul momento, chiaramente mi sto riferendo a questo caso, non vale per tutti i casi, quindi è specifico per il progetto che sto guardando, ed è dell'8% circa per quanto riguarda gli sforzi assiali. Con svincoli assegnati correttamente, guardando dei dettagli, dei nodi, io vedo sostanzialmente che non ci sono momenti parassiti, perché ci sono le cerniere che quindi mi permettono di portare a zero il momento. Nel momento in cui invece io non ho correttamente assegnato gli svincoli, mi ritrovo ad avere all'estremità degli elementi linei dei momenti che spesso non sono trascurabili. In questo caso invece ho svincolato correttamente, infatti si vedono tutti i puntini delle cerniere, le estremità degli elementi linei, però ho mantenuto infinitamente rigidi i link. Qua si vede le differenze. Ad esempio abbiamo un 30% circa in differenza sul momento massimo e un 360% di differenza sugli sforzi assiali. Inoltre si vedono delle situazioni un po' paradossali, cioè situazioni che vedono una trazione ingiustificata o con pressione ingiustificata in determinati elementi. Questo perché sostanzialmente se io assegno come infinitamente rigido l'elemento secondario, nel momento in cui l'elemento primario, il colmo, compie la propria deformazione soggetto ai carichi a cui è appunto soggetto, l'elemento secondario svolge un ruolo di puntone o di tirante, caricandosi in maniera notevole. E che cosa comporta? Comporta che per l'effetto puntone si ha ad esempio in questo caso una perdita del momento, quindi col rischio di sottovalutare e quindi sottodimensionare alcuni elementi linei. Al contrario, sollecitazioni molto marcate su altri elementi che poi, in fase di analisi del dettaglio della connessione, non consentono di dimensionare correttamente la connessione. In sostanza questi 1300 chilicoli che sono, non sono verosimili, non sono reali. E questo è un modello con vincoli elastici rigidi in traslazione. I vincoli elastici sono gli appoggi sulla sottostruttura. E sostanzialmente si nota rispetto al modello originario, cioè quello corretto, un momento che differisce di pochissimo e uno sforzo assiale tutto sommato che differisce a livello ingegneristico in modo accettabile, diciamo. Quindi, perché questo? La risposta è perché i link non sono infinitamente rigidi. Quindi, io ho collegato gli elementi secondari agli elementi primari con questi link che sono sostanzialmente funzionano un po' come una molla. E quindi, essendo non infinitamente rigidi, compensano l'errore che io commetto nell'andare a reputare infinitamente rigida la connessione tra l'elemento lineo e il supporto in murario, diciamo. Perché questo è un errore, andarlo a modellare come infinitamente rigido? Perché sostanzialmente noi colleghiamo la struttura linea in modo puntuale alla struttura di calcestruzzo, magari che c'è sotto, al cordo di calcestruzzo, ma lo facciamo sempre con connettori tipo gambo cilindrico, ad esempio. Mi viene in mente una squadrettina che è chiodata. Quindi, sicuramente, avremo N connettori che possono offrire una determinata rigidezza, ma non sarà mai infinita questa rigidezza. La stessa cosa qui. Tra colmo e travetti vi saranno due viti. In più c'è la connessione, se vogliamo, legno-legno, ma non è infinitamente rigida. Quindi sarebbe un errore reputare che questo link potesse essere infinitamente rigido come questi appoggi infinitamente rigidi. Infine vediamo il modello con tutti gli errori possibili e immaginabili, nel senso che non ha svincoli, ha i link rigidi e i vincoli elastici rigidi in traslazione. Si vede già graficamente che ci sono dei picchi un po' particolari. Allora, abbiamo un momento che da 12.000 rotti passa a 1.200, un 900% di differenza, gli sforzi assiali, i cui impazziscono completamente perché, in differenza dell'800%, vediamo i travetti come si puntano. Quindi è fondamentale tarare correttamente tutti questi parametri, quindi sia gli svincoli all'estremità degli elementi linei che i link, la rigidezza dei link e la rigidezza degli appoggi. Una verifica da farsi, quindi sicuramente quella inerente le deformate, le deformate verticali in primis, perché questo già dà il polso della situazione, nel senso che se vi sono delle labilità saltano fuori generalmente, si riescono a visualizzare abbastanza bene. E poi permettono di capire se appunto non abbiamo, se uno ha un po' d'occhio, non abbiamo fatto gli svincoli in modo corretto. Ad esempio, questo qua è un modello senza svincoli con incastri interni, link corretti, rigidezza vincoli esterni corretta, cioè ho dimenticato di mettere le cerniere. Se uno non mette le cerniere, la pancia che dovrebbe essere in questa direzione si vede, si vede molto bene nel travetto di testata, è ribaltata. Naturalmente l'effetto di tutti questi errori comporta un errore anche globale, oltre che sulle solicitazioni anche sulle deformate. Questo invece è il modello completamente rigido, con tutti i incastri interni, link rigidi, vincoli e elastici rigidi, che naturalmente passa da 3,25 come deformata a 0,87 cm. Quindi è fondamentale controllare sempre per prima cosa, prima anche delle sollecitazioni generalmente, l'entità delle deformate. Ho parlato di rigidezza di link e di vincoli elastici, ma come faccio a stabilirne il valore? Allora, sostanzialmente innanzitutto bisogna partire dalla tipologia di connessione, che è chiaro che quella è fondamentale per capire a che livello siamo. Chiaramente se io per assurdo annegassi un pilastro dentro a un tipo in un plinto a pozzetto, quello lì è chiaramente un incastro, a parte che dopo un anno è già marcio la testa dell'elemento ligno e quindi va sostituita, ma quello sarebbe un incastro sicuramente, e quindi se invece lo fissassi con due chiodi, quella sarebbe una cerniera. Quindi sulla base della tipologia della connessione uno già ha un'idea di quanto possa essere rigida o meno questo, sia lo svincolo che il vincolo elastico piuttosto che il link. Poi per molti prodotti, sempre più prodotti, esistono dei documenti, documenti tecnici sempre più ricchi e che spesso forniscono addirittura la rigidezza della connessione, ad esempio penso a degli angolari piuttosto che alle viti. Inoltre l'Eurocodice 5 li propone, propone dei valori e quindi uno potrebbe affidarsi in assenza di altri valori alle formule proposte dall'Eurocodice 5 o comunque in altri documenti tecnici in letteratura. E ancora, a me è capitato anche di farlo spesso, insomma, applicare per estensioni la rigidezza di connessioni note ad altri simili che si intendono utilizzare. Un angolare che, non so, con 10 chiodi di cui è nota la rigidezza a taglio, se io ne uso un angolare con 20 chiodi o con 6 chiodi, moltiplico in funzione del numero di chiodi. Ed infine, che quella che forse utilizzo io, ma che purtroppo necessita di anni forse di esperienza, è quella di affidarsi un pochino anche alla sensibilità del progettista. Ecco, queste sono le formule proposte dall'Eurocodice 5, lo chiamano K-SER, ma è sostanzialmente una rigidezza, in effetti espressa in newton su millimetri, quindi applicando una forza di n newton si ottiene uno spostamento di un millimetro, quindi queste qui sono le forze e le rigidezze. E come opero dunque io? Sostanzialmente io non faccio praticamente mai il calcolo rigoroso della rigidezza, a meno che appunto non stia facendo dei nodi particolari, strutture particolari, intendo dire giunti a raggera piuttosto che incastri al piede di una certa importanza. Ricordo che l'incastro al piede generalmente non esiste, però se uno è obbligato a farlo con elementi linee di una certa sezione si possono fare. Abbiamo visto ad esempio quella piastra che avevo fatto vedere in precedenza. Diciamo che le formule proposte dall'Eurocodice 5 sono poco precise e tendenzialmente sovrastimano le rigidezze. Anche per questo motivo io preferisco assegnare dei valori che si discostano da quanto proposto dall'Eurocodice 5 e in particolare io assegno valori modesti per i fissaggi secondari, ovvero i link che collegano i travetti agli elementi primari, colmi diagonali, queste cose qua. E la stessa cosa per il fissaggio dei travetti attraverso gli appoggi vincoli elastici al cordolo in cemento, ad esempio. Mentre assegno dei valori maggiori per i fissaggi primari, in genere con un rapporto 1 a 10. In questo modo, soprattutto per le sollecitazioni orizzontali, il grosso del taglio va a sollecitare i fissaggi primari, che quindi non rischiano di restare sottodimensionati. Perché se io assegnassi la stessa rigidezza a tutti, cosa succede? Naturalmente anche gli elementi secondari si caricherebbero, non dico in misura uguale, ma quasi rispetto agli elementi primari, il che poi deve essere anche dimostrato. Perché se io fisso, ad esempio, con una piastra fabbro il colmo sul cordolo di calcistruzzo, perché comunque voglio un bel fissaggio robusto, perché il colmo è alto 60 cm, mentre fisso i travetti con una squadretta da 2 mm e 4-5 chiodi, voglio vedere come si può pensare che le due rigidezze siano uguali. Però il software non lo sa e ti legge la rigidezza che tu hai assegnato ai vari vincoli, che se tu l'assegni uguale, praticamente ti trasmette anche delle sollecitazioni proporzionate alle rigidezze, da questo punto, degli elementi linei. Dunque, i valori modesti su vincoli elastici e link dei correnti permettono di evitare che essi lavorino come puntoni, assorbendo parte della sollecitazione che altrimenti ci menterebbe l'elemento primario ad essi collegato. In caso contrario si avrebbe un abbattimento, ad esempio, del momento flettente del colmo, col rischio di sottodimensionarlo. In sostanza è quello che abbiamo visto prima. Se io irrigidisco troppo questi link e gli appoggi dei travetti al cordolo, questi lavorano come i puntoni di una capriata e tendono a tenere sollevato il colmo che quindi poi viene sottodimensionato. Ne ho visti tanti di questi progetti perché mi capita quando io devo realizzare un costruttivo di prendere in mano progetti calcolati da altri tecnici, da colleghi, che spesso e volentieri, io ho visto anche delle capriate che non erano incernierate al cordolo di calcestruzzo, cioè avevano in questo caso ad esempio una catena rialzata e il puntone era come incastrato alla struttura in cemento sottostante. Ci sono cose anche di questo tipo in giro, purtroppo vuoi la velocità con cui si tende a progettare, vuoi magari la mancanza di esperienza sul legno e vengono fuori cose un pochino particolari e quindi spetta il progettista affinare la modellazione in modo da ottenere un modello plausibile che comunque nessuno di noi potrà mai definire come esatto, quindi questo purtroppo. Allora, per quanto riguarda la lettura delle rigidezze e dei valori dei link, il programma permette di farlo in svariati modi o a video portando sopra il cursore oppure cliccando sul link, selezionando uno più link e aprendo l'apposita tabella, selezionando tutto o nulla nel modello e aprendo la solita esplora tabella. Una volta che io ho i valori di questi link, prendo i dati, li copio e li elaboro attraverso dei fogli di calcolo a parte, in sostanza. Ecco allora, una volta che io ho fatto la mia modellazione, se scorro sopra i link, vedo i valori che propone il software oppure se li clicco mi apre la maschera perché qui sono ancora nella fase di editor, di modellazione, quindi posso andarli ad elaborare. Unavo è la stessa cosa naturalmente per gli appoggi, i vincoli elastici, quindi posso sempre andarci sopra oppure cliccare. Una volta lanciato il calcolo ed il risultato, posso andare a visualizzare una delle sei componenti dei link, sostanzialmente. Qui ad esempio mi sto soffermando sulla RZ e ancora una volta posso, come dire, scorrere sopra al link per andare a prendere visione del valore oppure lo posso cliccare. In questo caso vengono due colonne perché ho deciso di mettere l'inviluppo minimo massimo. Se avessi messo solamente l'inviluppo minimo e l'inviluppo massimo piuttosto che una combinazione o un caso di carico avrei potuto vedere. Un altro modo per andare a vedere i risultati è selezionare uno o più elementi e aprire appunto l'apposita tabella esplora tabella, selezionare quello che si vuole vedere, quindi estremi risultati, quello che si vuole e ti si apre la tabella che come al solito può essere copiata in Excel magari. Invece di ritornare sulla maschera si possono poi andare a vedere direttamente da questa struttura sul fianco a lato e poi vi sono anche i minimi e massimi critici, quelli che praticamente vengono fuori dalle combinazioni, come abbiamo detto, automatiche che abbiamo visto prima e a fianco riportano come, qual è proprio la combinazione che determina questo tipo di sollecitazione. Sempre in merito alle combinazioni, uno degli aspetti positivi che ho riscontrato, come ho già detto, nel software è quello di poter creare e personalizzare sostanzialmente le combinazioni, cioè raggrupparle in funzione cosa molto importante, in funzione del KMOD per poi poter analizzare le sollecitazioni in funzione della durata e le sollecitazioni di tipo non sismico e tutte quelle di tipo sismico che ho creato io manualmente e abbiamo visto in precedenza se io clicco questa, che sono solo quelle sismiche, dopo andando a visualizzare le varie combinazioni sono quelle personalizzate che avevo creato io in precedenza, oppure anche questa l'ho creata io che è tutto meno TA e DI, che sono quelle due combinazioni che uso saltuariamente, cioè come dire, che mi servono come controllo mio però, o per verificarle deformate, che però non rientrano in quelle degli stati limite ultimi. Se ad esempio io volessi andare a creare una, l'inviluppo di determinate combinazioni che prevedono la neve ma non il vento, ad esempio ne posso creare una nuova e la chiamo neve, no vento, ad esempio, poi con riferimento a quelle che hanno la neve ma non hanno il vento, ad esempio la combinazione 2 e ancora la combinazione, questo è tutto il vento, questa qui, quindi la 2 più la 16 la 2 e la 16 sono le uniche due, perché dopo queste qua sono sismi, quindi la 2 e la 16 io vado a deselezionare neve e vento tutte le combinazioni e lascio acceso solamente la 2 e la 16 a questo punto il software in automatico mi aggiorna tutte le sollecitazioni in questo caso con minimo massimo, chiaramente avendocene solo dentro due, sono la 2 e la 16 e così via ad esempio se ho altre, non so, quelle solo col vento o quelle solo con i permanenti cioè posso fare un pochino, è molto flessibile ecco questo software da questo punto di vista quindi molto molto utile un ulteriore pregio che hanno i link, quindi nell'impiego dei link nella modellazione di una struttura, di una copertura sta nel fatto che praticamente quando io vado a leggere le sollecitazioni che un elemento lineo trasmette ad un altro elemento lineo ad esempio ho già le sollecitazioni pulite, nel senso che sono orientate secondo la terna che ho assegnato del link quindi se io vado a vedere RZ, saranno sollecitazioni in questo caso verticali se io avessi dovuto ricavare la sollecitazione che si scambiano questi due elementi non avendo impiegato alcun link avrei dovuto fare una combinazione passando attraverso il valore di N e il valore di VZ tanto per intenderci, quindi avrei dovuto lavorare con i seni, i coseni insomma e sarebbe stato molto più articolato così facendo invece io posso selezionare per tipologia tutti i link ad esempio in questo caso tutti i link al colmo e vado a vedere la sollecitazione RZ minima massima in un solo colpo magari selezionando l'apposito bottone minimo massimo prendo questa sollecitazione e vado a fare la mia verifica inerente il nodo in esame lo stesso dicasi per le sollecitazioni di tipo orizzontale che sollecitano magari in direzione X quindi che tendono a staccare l'elemento lineo magari dal colmo con questa sollecitazione vado a dimensionare la connessione che deve tenere uniti i due elementi idem dicasi con la sollecitazione in direzione Y per quanto riguarda la lettura delle rigidezze e dei valori dei vincoli elastici in analogia a quanto visto per i link questa operazione può essere fatta direttamente a video quindi preventivamente attivando le etichette dei risultati e appunto andando a leggere visivamente i loro valori oppure scorrendo il cursore sopra il vincolo in tal modo si riesce sia in fase di modellazione a capire, a leggere le rigidezze assegnate nelle tre direzioni tre direzioni di traslazione e tre di rotazione oppure in fase di risultati si vanno proprio a leggere le sollecitazioni risultanti oppure cliccando sul vincolo chiaramente se lo clicco in fase di editing posso andare a modificare quelle che sono le rigidezze nelle tre direzioni come abbiamo detto dopo dovrò rilanciare il calcolo dell'analisi naturalmente oppure in fase di risultato vi si apre un'apposita mascherina che evidenzia le sollecitazioni ancora si possono preventivamente con gli strumenti di selezione selezionare uno o più vincoli e da lì aprire col comando apposito la tabella relativa che illustra tutti i risultati ancora senza selezionare nulla oppure selezionando tutto, evidenziando tutto oppure appoggiandosi al comando parti che possono essere parti logiche quindi automatiche del software oppure precedentemente create dall'utente si può appunto andare ad aprire l'apposita tabella e leggere i risultati tutto ciò viene poi copiato può essere copiato ed elaborato ad esempio tramite fogli di calcolo per i vincoli elastici il principio è analogo a quello visto per i link quindi gli si può andare diciamo scorrere sopra e si visualizzano i valori nella maschera diciamo di editing ok quindi si può sempre in questo modo diciamo così andare a editare uno o volendo anche tutti contemporaneamente e si può andare appunto nell'apposita tendina e selezionare la sollecitazione che interessa il vincolo e ancora una volta adesso qui ho spento i valori ancora una volta si possono andare a leggere semplicemente posizionandosi qui ci sono dei nodi vicini ecco devo fare uno zoom semplicemente posizionandosi sul nodo oppure cliccandolo si apre un altro modo che è sempre quello di andare a vedere la tabella oppure se non si seleziona nulla tutti i vincoli vengono riportati oppure se ne può sempre selezionare una parte e quindi vengono riportati solo quelli selezionati in alternativa il software oltre a poter creare delle parti quindi accendere e spegnere le parti oltre ad avere la possibilità di fare le parti automatiche parti che vengono definite logiche quindi cliccando restano accesi solamente come dire di elementi di interesse che è questo utilissimo comando che lascia accese solo le parti che sono state evidenziate quindi molto molto flessibile anche per modelli complessi si può andare veramente a lavorare in modo molto specifico vediamo adesso il controllo della torsione degli elementi lini generalmente non viene mai fatta in realtà ha una sua importanza non trascurabile consiste sostanzialmente nel svincolare ad un estremo la rotazione attorno al proprio asse creando di fatto una cerniera sferica fatto ciò occorre poi controllare il diagramma Tx ovvero del momento torcente questo perché gli effetti torcenti possono influenzare l'andamento del momento flettente in questo caso dell'elemento a cui afferiscono ad esempio un travetto e il colmo soprattutto se il travetto è corto nell'esempio in questione vediamo che l'andamento della torsione tutto sommato è modesto si arrivano ad avere dei picchi attorno a 105 kN cm quindi del tutto come dire assorbibili a livello di sollecitazione degli elementi linei faccio notare appunto il discorso che accennavo circa i travetti corti i travetti corti per quanto questi valori siano attorno a 50 kN cm tendono a caricarsi di più rispetto al travetto lungo e questo è perché chiaramente è come se avessimo una molla rotazionale lungo lo sviluppo dell'asse dell'elemento linea più questo elemento è corto più è rigida questa molla però come già detto in questo caso non ho ritenuto opportuno andare a svincolare ad un'estremità diciamo così il momento torcente creando una cerniera sferica ecco faccio notare che in questo caso in questi casi avrei dovuto dove ho l'appoggio in mezzo e l'elemento ligno è continuo avrei dovuto svincolare ad ambedue le estremità perché comunque il ritegno torsionale me lo dà l'appoggio intermedio vediamo adesso un caso volutamente errato dove abbiamo tre capriate e dei travetti questo l'ho voluto riportare proprio per far capire il discorso che stavo facendo quindi cosa è successo qui praticamente non ho svincolato a momento torcente i travetti e naturalmente anche all'appoggio hanno il vincolo torsionale si leggono valori appunto su questi travetti assurdi nel senso altissimi 3400 kN cm chiaramente incompatibili con questo tipo di elementi e di strutture tutto ciò si ripercuote sul colmo perché questa torsione impedita genera dei picchi di momento flettente sul colmo praticamente andiamo con sollecitazioni dell'ordine di 5000 kN cm questo invece è lo stesso modello dove ho apportato lo svincolo torsionale sui travetti al colmo quindi vediamo che la torsione è passata da 3400 a valori 200 kN cm quindi valori del tutto normali per questo tipo di strutture e tra l'altro non sono più nei travetti questi valori di picco ma sono all'altezza del colmo dove ovviamente non può essere completamente svincolato ai due estremi quindi portandolo a zero perché avrei appunto un'abilità per rotazione attorno al proprio asse quindi in questo caso abbiamo un momento torcente del tutto compatibile e se andiamo a vedere l'andamento del momento flettente vediamo che non abbiamo più picchi all'estradosso del colmo che vorrebbe dire tendere le fibre superiori del colmo quindi il momento flettente è corretto allora in questo modello appunto abbiamo tre capriate puntoni in verde e catena rossa i travetti che sono quelli gialli e il colmo viola ecco soffermiamoci un attimo praticamente io ho dei vincoli sugli appoggi dei travetti delle capriate al cordolo di gronda sostanzialmente e non ho nessun vincolo che possa bloccare il movimento in orizzontale diciamo lungo il proprio asse del colmo quindi soggetto a forze orizzontali in questo caso il sisma statico equivalente sia naturalmente che la struttura cerca come può di fermarsi se può nel senso non avendo svincolato a torsione questi elementi ok delta x non è stato svincolato io mi ritrovo in questa situazione appunto con 3400 chilo newton centimetri di di momento torcente che si traducono come vi ha detto in un momento flettente sul colmo con andamento zig zag naturalmente alternato di 5920 chilo newton centimetri il modello invece con gli svincoli si notano perché le cerniere sono rosse ok sempre uguale in tutto e per tutto quindi non cambia assolutamente nulla porta a una torsione del tutto trascurabile sui vari elementi e il momento flettente risulta essere del tutto trascurabile andamento come sempre zig zag ma trascurabile andiamo adesso al discorso della rigidezza del piano di copertura io sconsiglio vivamente di inserire membrane di qualsiasi spessore anche modesto nei modelli di calcolo ma non nella realtà della pose preferibile operare con diagonali tipo nastri perforati considerandolo il 50% dell'area in modo tale che lavori non sia in trazione che in compressione perché in realtà il nastro perforato lavora solo in trazione la membrana assorbe molte sollecitazioni che non vengono correttamente trasmesse agli elementi primari in sostanza funziona da puntone spesso vedo colleghi che mettono queste membrane cioè questi spessori di 20 mm 40 mm perché pensano in un doppio tavolato e probabilmente non si rendono conto di così facendo irrigidiscono a dismisura il piano di copertura e adesso andiamo a vedere questo abbiamo a sinistra il modello originario senza membrana da 20 mm in legno C24 mentre a destra abbiamo appunto lo stesso modello con la membrana aggiuntiva ora questo è l'andamento del momento flettente dove abbiamo un picco di 6400 Km con la membrana e l'andamento dello sforzo assiale che è arrivato alle 5 tonnellate e il taglio sempre alle 5 tonnellate poi andiamo a vedere gli sforzi membranali in direzione X ci attestiamo dagli 0 ai 20 kg al centimetro quindi qualcosa prendono queste membranze questo è il modello senza privo di membrana dove il momento è tipo il doppio 12200 in tutto il newton centimetro lo sforzo assiale 1000 kg e il taglio sui 6000 ovviamente con andamento gradoni poi andiamo a vedere la deformata che si attesta attorno ai 3 cm e 3 mentre nell'altro modello con la membrana la deformata si ferma a 2 cm dunque il fatto che sostanzialmente con la membrana aggiuntiva il momento flettente sul colmo si sia dimezzato comporta un sottodimensionamento nel caso appunto si modelli la struttura con la membrana non certamente trascurabile perché se il momento viene dimezzato naturalmente anche la sezione linea può essere proporzionalmente ridotta e la stessa cosa abbiamo visto con le deformate abbiamo una riduzione fortissima delle deformate ricordo che una delle verifiche più cimentanti per il legno è la verifica sulle deformate prima ancora che sulle resistenze quindi un abbattimento così consistente della deformata è fuorviante perché è del tutto fasullo anche perché vengono inseriti dei valori per quanto riguarda la membrana tipici del legno ma nella realtà si adoperano dei tavolati questi tavolati sono separati l'un l'altro e quindi non è una membrana continua su tutta la superficie della palda ma sono dei pezzetti inoltre sono chiodati puntualmente in corrispondenza dei travetti alla sottostante struttura quindi l'elemento diciamo che va ad influenzare il comportamento membranale di questa lastra che andiamo a inserire è dovuto alla rigidezza dei connettori dei chiodi in sostanza quindi non certamente allo spessore della membrana stessa quindi attenzione a questo aspetto insomma a dimostrazione del fatto che la membrana funzioni da puntone si possono indagare ad esempio le sollecitazioni sui link ad esempio in direzione x ovvero parallelo al colmo secondario vediamo che nel caso privo di membrana abbiamo ad esempio al link tra i due colmi i valori che si attestano attorno a 500-600 deca newton valori attorno ai 300 deca newton tra i diagonali e il colmo secondario e valori attorno ai 50-60 deca newton tra i travetti e i colmi nel caso invece della presenza della membrana questi valori vengono tutti abbattuti valori che sono tutti inferiori salvo pochissimi casi all'unità quindi qua al massimo arriviamo a 17 quindi questo sta proprio a dimostrare che la membrana prende lei carico delle sollecitazioni di falda scaricando di fatto i travetti e operando da puntone di conseguenza si riducono anche i momenti flettenti sugli elementi primari che quindi vengono sottodimensionati grazie a tutti Grazie a tutti.